Ben trovati su Radio News 24, questa è On Air, interviste e storie. Io sono Alessandro Cavalieri, la storia di oggi viene dall'Abruzzo ed è quella del notaio Massimo D'Ambrosio. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno, benvenuti a voi. Allora, sappiamo che i notai vengono coinvolti in tantissime attività, diciamo che la pratica notarile serve praticamente per qualsiasi cosa in Italia. Oggi però parliamo di un aspetto particolare, quello dell'accettazione tacita. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché negli ultimi anni se ne è sentito parlare parecchio, ma magari in pochi sanno effettivamente che significa, quando si può usare e che cos'è. Davvero è una situazione incresciosa che affligge tutti i notai al 90% di tutte le compravendite. è una cosa davvero antipatica e mi fa piacere se qui posso dire qualche parola per tranquillizzare o per risolvere qualche problema. Prego. Dunque, l'accettazione tacita è una novità relativa. Circa dieci anni prima, per sempre, il codice del 1865 e il codice del 1942 riteneva sufficiente la dichiarazione di successione quando c'era uno spostamento ereditario e quindi il notario, se doveva vendere un bene caduto in successione, controllava la successione, vedeva se era sbagliata la integrava per carità, procedeva alla vendita e i venditori uscivano felici e contenti con il prezzo ricavato dalla vendita. Adesso no. Nuova giurisprudenza, nuove interpretazioni della legge, si è detto obbligatoriamente dalla Cassazione, dal legislatore e dal Consiglio nazionale del notariato che si è accodato con una sua direttiva disciplinare generale, che la dichiarazione di successione non serve per il trasferimento del bene, ha solo valore fiscale di bravi cittadini pagatori delle tasse. Punto. Bisogna fare un'altra cosa. L'accettazione dell'eredità, che può essere espressa se fatta separatamente, oppure tacita se viene fatta insieme all'altro. L'accettazione ha un costo, perché è una nuova registrazione, una nuova trascrizione e anche un piccolo onorario del notario. E quindi tutti i venditori protestano e gridano fino al cielo. Ma non c'è niente da fare, perché la Cassazione ha detto che l'accettazione dell'eredità è essenziale per il trasferimento del bene immobile. Il bene immobile senza l'accettazione è ancora intestato allo scomparso, al decuius, come dicono gli esperti. E quindi il venditore non è proprietario. E quindi il venditore non lo può vendere. E quindi l'acquirente, se compra da un venditore che non è proprietario, corre gravi rischi, perché magari viene fuori un altro qualche erede che fa la cittadinanza e si scippa l'immobile. Questo è il problema. E purtroppo bisogna rendersi conto che non è colpa del notario. Il notario non c'entra. Il notario farebbe a meno di quelli 50 euro che poi viene a guadagnare per evitarsi lunghissime discussioni o essere accusato di attività depredatoria nei confronti del cliente. Questa è la legge. Non c'è assolutamente niente da fare. Quando si vende un immobile ereditario bisogna fare l'accettazione. Se ci sono tanti immobili, il notario suggerisce di fare un'accettazione espressa, cioè un atto prima parte, che costa un po' di più dell'accettazione tacita, però può ricomprendere un'infinità di immobili. Mentre invece se si fa un'accettazione tacita per ogni immobile che si vende, la somma totale è più elevata di un'accettazione espressa. Questo purtroppo è il problema. E non c'è assolutamente niente da fare. Salvo qualche caso raro in cui l'acquirente accetta il rischio. Mi fido, voglio rischiare di perdere l'immobile e ti esonero dall'accettazione tacita. Il notaio lo dice, l'abberta, lo mette nell'atto e sono fatti loro. Naturalmente poi se l'acquirente acquista perché deve fare un mutuo, la banca non sarà certo così disponibile a rischiare l'ipoteca e a rischiare tutti i soldi per non far pagare l'accettazione tacita al venditore. Ma questa è tutta un'altra questione. Questo è il problema dell'accettazione tacita che vorrei che tutti gli ascoltatori capissero benissimo. Io ho pubblicato sul mio blog un lungo articolo noioso con tutti i riferimenti di carattere normativi. Questa chiacchierata non è noiosa, quindi deduco che anche il suo articolo non lo sia. Grazie, grazie. Però scrivendo sono costretto a scrivere da notaio tradizionale con tutti i riferimenti normativi, con tutte le sentenze che adesso vi ho detto così in maniera simpatica. Ma c'è una sfizia di provvedimenti, ma qualora qualcuno non mi credesse? Non è possibile questo cambio totale a 360 gradi si vada nel mio blog a leggere l'articolo e così si diverte e dorme più tranquillo la notte. Qual è il tuo blog? Dove lo troviamo? Io ho un blog di grande successo. Mi compiaccio di essere il notaio più cliccato del web che si chiama blog del notaio Massimo D'Ambrosio, dove ci sono 500 miei iscritti e ho 7000 lettori al giorno, tutti i santi giorni, accetto di domenica e natale che giustamente... Ah beh, certo, magari uno sta con la famiglia. Senza, c'è anche un sito, quindi un Facebook dove possiamo trovarla? Ma certamente, io sono su Facebook, sono su Instagram, sono su LinkedIn e ho anche un sito statico, quello di carattere tradizionale. È facilissimo trovarmi andando su Google, mettendo un notaio Massimo D'Ambrosio, vengono fuori 36 pagine. Non so se mi spiego. Se mi mettete Trump ne vengono 35. Invece in Abruzzo dove la troviamo? In Abruzzo io sono a Pescara, il mio ufficio principale è Pescara, di fronte al tribunale, anche qui è facilissimo arrivarsi tramite le indicazioni del blog dei miei vari siti, però naturalmente stipulo in tutto l'Abruzzo, vado in tutto l'Abruzzo perché la mia competenza è a Bruzzese. Anzi, aggiungo una cosa, i notai hanno competenza in tutto il mondo. La competenza dei notai è un po' particolare, cioè sono loro che non si possono spostare. Mentre un avvocato, un medico che si trova in Liguria in vacanza, c'è un incidente d'auto, interviene e può legittimamente aiutare la vita perché è medico anche lì, il notaio no. Il notaio quando esce dai confini della propria area, nel mio caso l'Abruzzo, non è più un notaio. Però all'interno della propria area può fare compravendite e atti per tutto il mondo. Quindi se viene qualcuno da Milano, da Canigatti, ma dall'America o da San Pietroburgo, il notaio italiano può vendere e fare atti in generale per tutto il mondo. L'importante è che lui rimane infollato alla sua sedia. Questa è un'altra struttura del sistema, ma ne parleremo magari in un'altra occasione. Grazie mille, grazie mille. Assolutamente, grazie a lei. Buon lavoro. Mi ha fatto piacere vederla, mi congrato nella sua conduzione. Grazie, grazie, è stato un piacere.